Questa sera abbiamo una grande serata musicale con tantissimi giovani, musica classica, jazz, pop, rock, all'interno della festa del Santissimo Salvatore, una festa della nostra comunità parrocchiale e della cattedrale. Ci sono stati momenti bellissimi, abbiamo fatto già una scena di carità, c'è stato alla proiezione un film, questa sera tantissimi giovani si esibiranno nella bellezza della musica e della loro arte. Eccoli vorrei ringraziare di cuore. Domani sera avremo il professore Giuseppe Savagnone di Palermo che presenterà il suo libro Il gender spiegato a un marziano e venerdì avremo il professor Mauro Magatti della Università Cattolica di Milano, ordinario di sociologia che in un incontro dibattito sulla cultura può creare sviluppo e lavoro. E poi continueremo fino a domenica quando sarà veramente la solennità della trasfigurazione del Signore e un momento di grande festa comunitaria della cattedrale.